è buono il tè signorina bene sono contento che l'abbia bevuto tutto fa molto freddo in questo periodo a chicago sono felice che lei abbia accettato il mio invito no no non si disturbi so già per quale sede lavora mi sono rivolto espressamente al suo capo chiedendo di lei è da pochi anni che lavora al giornale ma non mi sono perso nessuno dei suoi articoli soprattutto quelli degli ultimi anni deve essere una persona convincente signorina johansson per aver convinto i suoi superiori ad accettare di pubblicare articoli così bizzarri e inquietanti sì mi riferisco proprio al suo costante e cociuto tentativo di rovinarsi la carriera no non si offenda signorina johansson stavo solo scimmiottando parole che sono sicuro si sarà sentita ripetere un numero considerevole di volte vede è difficile cercare di convincere la gente a guardare un po più in là del proprio naso io lo so bene il problema è che lei è convinta di stare inseguendo qualcosa una sensazione impalpabile sfuggente talvolta le sembra di essere sulla strada giusta quando dalle parole sconclusionate di un clochard sente ripetere più o meno le stesse cose che le parti avere estrapolato dalle farneticazioni di un tossico dipendente ricoverato al mental institute dice nova oppure la nuova teoria esposta da qualche disincantato fisico teorico sulla composizione dell'universo sembra avvicinarsi alle mistiche rivelazioni di qualche santone meso americano o alle profezie di certi sacerdoti e frati medievali della vecchia europa parole scritte a bomboletta sulle mattonelle fetide della metro verniciate in giallo sui mattoni rossi del retro di una macelleria o di una chiesa lei sa qualcosa non è vero lo leggo nei suoi occhi in questo momento lei sa qualcosa ma non sa dirmi cosa è come se potesse quasi afferrare la verità di questo triste mondo ma essa le scivola via ogni volta che la sfiora come se dietro ad ogni porta ce ne fosse un'altra più buia e spaventosa della precedente ecco perché ha accettato di incontrarmi signorina Johansson lo ha capito dalle allusioni scritte nella lettera che fece recapitare al suo studio al green palace ha ragione signorina Johansson lei sta per giungere a comprendere una verità spaventosa e così terribilmente abissalmente profonda da avere il potere di distruggerla completamente i misteri dell'inferno e del paradiso del kha egizio dell'el germanico e scandinavo dei molti inferni tradizionali del di yu cinese o dell'ade del mondo antico ciò che freos gaiman ha scritto nella settima porta è quasi tutto vero le profezie dei libri di bronzo del kazastan e dei papiri del lago vittoria tutte visioni soggettive e parziali di una verità cangiante e terribile noi siamo ombre solo ombre degli dei splendenti e crudeli che eravamo e ora le nostre anime immortali alimentano la spaventosa macchina in cui dio ci ha imprigionati e che cosa resta ora che dio è morto solo mondi rovina i suoi servi ridotti alla fame e alla miseria e lui il diavolo io l'ho cercato tutta la vita senza nemmeno saperlo e forse anche al di là di essa ma fu il diavolo a trovare me solo attraverso una vita di rinunce orrore incubi io scorto la verità la verità non sono sempre stato ricco sa grazie nel 79 ero detective a chicago e prendevamo uno stipendio da fame inseguivo la promozione da anni ma l'essere afroamericano sa alle sue controindicazioni in questo paese all'epoca il dipartimento era alle prese con una serie di sparizioni che non avevano né capo né coda tre uomini e cinque donne niente in comune fra di loro se non il fatto di essere stati visti l'ultima volta nel quartiere di engelwood a chicago non le dice nulla eh abbe pazienza allora mi lasci finire spero che il suo registratore abbia parecchio nastro le denunce di sparizione non erano quello che si può definire una rampa di lancio per una carriera investigativa erano spesso casi inconcludenti gli archivi erano ancora in gran parte cartacei all'epoca eppure quello avevo e mi convinsi che doveva bastarmi c'erano le elezioni della giunta in quei mesi e il sindaco leidecker voleva avere qualche carta in più da sbattere sul tavolo della campagna elettorale risolvere quei casi avrebbe sicuramente fatto comodo anche al procuratore harry leidecker fratello del sindaco jeffrey ci stava addosso e nelle ultime settimane aveva fatto più di una visita all'ufficio del capodipartimento cominciare ricerche ricostruendo i percorsi delle otto persone scomparse scoprì che nessuno si era preso la briga di andare troppo a fondo nella questione si voleva archiviare i casi e basta feci parecchie telefonate a dei colleghi dei dipartimenti delle città da cui quei disgraziati erano partiti atlanta florence guinaboo philadelphia tutti a distanza di tempo diverso per venire a chicago tutti per venire proprio nel quartiere di engelwood c'era una linea sottile ma determinante che li accomunava alcuni erano stati ricoverati in istituti psichiatrici da minorenni per stati depressivi anoressia schizofrenia indotta da traumi infantili avusi e maltrattamenti altri erano divenuti membri di congreghe spirituali pseudo cristiane ma tutti avevano avuto problemi e disturbi mentali stati depressivi cronici schizofrenia paranoide chi le conosceva le descrisse come persone schive riservate di quelle che scrivono su un diario che si interessano ad argomenti come la filosofia orientale al misticismo al paranormale ognuno tenta di semplificare il mondo come può per renderlo meno spaventosa e angosciante di quello che è ma poco prima di partire ciascuno di loro aveva ricevuto una lettera ne ho un paio di copie che trovai nei loro appartamenti una lettera che li invitava espressamente a raggiungere l'ufficio postale di engelwood tra la love avenue e la sessantatreesima non c'era scritto molto niente di sensato almeno la lettera alludeva a una risposta fondamentale alla risoluzione del male di esistere ad una verità in grado di trascendere lo stato di miseria della vita umana c'erano delle direttive anche al loro arrivo ad engelwood avrebbero dovuto prelevare il contenuto della cassetta numero 20 0 27 u dall'ufficio postale la lettera finiva con una frase strana prenditi il tuo tempo vecchio non fare pasticci firmata hwm ovviamente mi recai all'ufficio postale di engelwood un edificio molto grande a due piani simile ad una scuola uguale e decadenti e anonimo come altri mille nello stato feci le mie domande e l'impiegata mi disse che non esistevano cassette con quella cifra o meglio sì c'era la cassetta di giacenza e corrispondenza numero 20 0 27 ma nessuna di esse finiva con la u solo con la f di flor indicante il pianterreno dell'edificio a livello stradale l'impiegata era vagamente ostile sembrava stizzita dalle mie domande e dietro gli occhiali spessi sembrava febbricitante non ottenni molto e l'impiegata mi fece intendere di essere molto impegnata l'intero edificio aveva qualcosa di sinistro decadente c'era qualcosa di indefinibile che puzzava di cenere bagnata urina disinfettante cancelleria venendo via sentivo gli occhietti di quella donnetta grassa ostile e tremolante sulla schiena già in quei giorni mi sentivo nervoso e avevo la sensazione che qualcuno mi osservasse era il gennaio del 1979 faceva freddo e la neve spingeva la gente a starsene comoda a casa i vicoli erano bui e avvolti nei refoli di vapore sul retro delle tavole calde e dai tombini uscivano miasmi da togliere il fiato certe volte mi pareva di sentire puzza di bruciato passai parecchi giorni negli uffici del dipartimento di engelwood a sfogliare fascicoli di casi di sparizione rapimento di ritrovamento di corpi o parti di cadaveri mai identificati ero convinto che ci fossero dei precedenti non so perché ma ne avevo la certezza intuito da sbirro dopo qualche giorno di scartoffie venne fuori che c'erano state 192 denunce di sparizione negli ultimi 80 anni ad engelwood più di un paio di casi all'anno in media e solo 11 erano state archiviate con successo due casi l'anno possono passare inosservati in così tanto tempo in una città come chicago credo cercavo informazioni fra le congreghe episcopali del quartiere casi di satanismo settarismo ma non trovavo nulla queste persone erano semplicemente svanite avevo fatto anche una mappa dei luoghi in cui le persone scomparse erano state viste l'ultima volta tutte non più di quattro isolati dagli uffici postali di engelwood più cercavo e più mi convincevo che c'era qualcosa di orribile sotto erano apparse scritte sui muri di quell'ufficio postale negli anni il castello brucia ancora pure il castello rende liberi e poi avevo trovato una foto inerente a un caso di omicidio del 1957 un corpo semisciolto nell'acido era stato trovato sul retro dell'ufficio postale la vittima aveva scritto con un pennello il vecchio alla fine ha fatto un bel pasticcio mi sembrava di aver trovato qualcosa ma ancora non riuscivo a capire cosa alloggiavo a lugden's hotel una baracca sterile vicino alla 67esima ero alla finestra del quinto piano una sera con una morrison accesa in bocca e un bicchiere di jameson in mano ad una finestra di fronte dall'altra parte della stretta strada c'era un uomo aveva una bombetta in testa e sembrava una sagoma di cartone la luce di una lampada alle sue spalle passava dagli occhi dalle narici e dalla bocca senti le gambe farsi di latte mentre guardavo quella bocca sagomata di baffi muoversi come un'ombra cinese su un muro diceva parole che non potevo dire ero come preda del sonnambulismo la mia mano strinse il bicchiere fino a schiantarlo e con un coccio che grondava di sangue incisi delle parole nell'intonaco della finestra underground floor piano interrato la u capisce avevo raccolto parecchio materiale dall'archivio storico di englewood per cercare eventuali collegamenti tra gli abitanti del quartiere e le famiglie o i gruppi di affilazione delle persone scomparse era parecchia roba e mi ci dedicavo solo prima di dormire ero frustrato inquieto stavo per mollare tutte affanculo la promozione il sindaco il procuratore tutto il baraccone dopo quella sera mi sentivo come in preda al delirio nulla sembrava reale le pareti il cielo persino il profilo della città sembrava essere cambiato mi sembrava di vedere palazzi di colonne pazzesche e rovine immense sopra lo skyline della città eppure ripresi le indagini come se fossi un assetato nel deserto in cerca di un sorso d'acqua qualche notte dopo delirante fra le scartoffie sparse nella mia stanza d'albergo mi cadde lo sguardo su una vecchissima foto in bianco e nero che ritraeva un grande edificio in uno strano stile ricercato era un hotel e si chiamava il castello era datata 1893 e ce n'era un'altra che ritraeva i resti di quello stesso edificio ridotto ad una rovina fumante a causa di un incendio doloso datata 1895 due anni dopo continuai a cercare informazioni su quella storia ma non trovai molto se non che fino al 1974 c'era una scala sul retro degli uffici postali che scendeva dalla strada ad una porta nel sottoscala antincendio era venuto fuori che diversi spacciatori usavano quel vecchio scantinato come luogo di spaccio dopo una retata fu saldata ma due di quegli spacciatori fuggirono nel sotterraneo e non vennero mai più fuori i sotterranei erano chiusi da quasi 80 anni dai giorni dell'incendio che ridusse in ceneri il castello i piani interrati del castello dovevano essere ancora sotto l'ufficio postale under floor presi la mia roba la pistola una torcia bevi altri due bicchieri e mi avviai in piena notte verso l'edificio postale fuori c'era una tormenta di neve ma ero così sconvolto ed eccitato da non essere neanche completamente lucido ero come preda di una febbre simile a quella che mi prendeva durante le fughe da casa quando il mio vecchio si metteva a bere sapevo che picchiava mia madre avrebbe spaccato la faccia anche a me se mi avesse trovato in casa come aveva fatto molte altre volte era quella stessa sensazione onirica di disorientamento e smarrimento che muoveva le mie gambe verso una meta era come se stessi seguendo un richiamo capisce non era una scelta con un paio di tronchesi e parecchie spallate riuscì ad aprire la porta sul retro in mezzo alla tormenta e scesi nel buio di quello scantinato era mezzo congelato e non c'era nulla di interessante se non una grata sul pavimento sapevo che l'edificio che ora ospitava l'ufficio postale era stato costruito dopo che l'incendio aveva distrutto la struttura dell'hotel castello ma non le sue fondamenta o quello che ancora nascondevano aprì la grata e scesi lungo la scaletta rugginosa avvolta nel nauseante odore della cenere bagnata non so dire di preciso cosa ci fosse la sotto mattoni e tubazioni che andavano avanti e avanti stanze con caldai e altri vecchi macchinari che non potrei identificare mi sembrò di camminare per ore talvolta sentivo dei suoni e il soffitto diveniva composto di travi da cui filtravano le luci di camere dal letto con voci bisbigli e un tremendo odore di gas poi il rumore di fiamme che l'incendiava nello sfrigolio di carne umana e grida lontane c'erano scale di mattoni e metallo che scendevano sempre più in basso e i macchinari fatiscenti incrostavano le pareti del tunnel sempre più soffocante mi prenderà per pazzo è ovvio che un posto del genere non possa esistere porte che si aprivano su camere perfettamente conservate arredate con numeri identificativi a cinque cifre e una lettera bagagli di pelle vestiti sparpagliati marciti di un centinaio d'anni fa per terra grate che si aprivano sul pavimento in vasche ribollenti di liquido corrosivo su cui galleggiavano resti di carne e ossa figure sfuggenti e bisbiglianti nelle ombre fra loro vedevo mio padre con la cintola in mano stavo scendendo verso l'inferno e lo sapevo poi arrivai davanti ad una porta di legno anticato la vernice sgallata per un incendio recente 20 0 27 u l'apri la maniglia d'ottone era calda e viscida come se stesse sudando la stanza dall'altra parte era una camera impossibile grondavo di sudore ed ero esausto e delirante ma non vomitai c'erano gabbie di metallo in cui erano ammassati cadaveri di uomini e donne i genitali massacrati tavoli operatori insozzati di sangue interiore umane su cui giacevano cadaveri nudi e fatti a pezzi con precisione anatomica bilance con organi e manichini di cuoio ingranaggi con volti umidi cuciti disposti in posizione di conversazione su divanetti e poltrone d'eco altri cuciti insieme mentre cigolanti tendini metallici simulavano i movimenti di un amplesso vecchi registratori gemevano di piacere o di risate roche distorte davanti ad una grande finestra in funda a quella cattedrale di mattoni anneriti e di orami allucinanti c'era un uomo con una bombetta in testa mi dava le spalle vestito come un gentleman abbiente della belle poca lo raggiunsi in preda alla nausea e ai tremori era come un guscio scavato aveva solo la parte anteriore del corpo mi capisce andai verso la finestra e non riuscì a non guardare attraverso quegli occhi bucati gli stessi che mi avevano guardato dalla finestra quella notte che c'è signorina Johansson non si sente bene? Su mi lasci finire e si rilassi a breve non potrà neanche muovere la testa comunque quello che vidi dalla finestra distrusse ogni pilastro di razionalità e percezione della realtà come l'avevo interiorizzata fino a quel momento al di là del vetro c'era l'inferno lo guardavamo dall'alto di una scogliera che si affacciava su una pianura vasta di terra nera c'erano roghi e cortei deliranti di sacerdoti con palchi di costole come tiare sacrari immensi in cui angeli traditori urlavano con le budella disposte come festoni in un tempio buddista aree e arche d'oro e ossa si ergevano su colline di colonne spezzate e pezzi di chiese e mausolei pieni grondanti marcescenza e putredine masse di flagellanti scorticati e nefariti urlanti formicolavano alla luce dei lampi che si abbattevano su un palazzo grande come le montagne è da lì che regna il diavolo signorina johansson è lì che giace scosto dagli spasmi della fame e dell'ardore è rimasto solo capisce i suoi figli e apostoli sono disposti a ricompensare chiunque apra per loro le porte al nostro mondo elisio esattamente quello che aveva fatto henry howard holmes nel 1895 ma fallì e fu impiccato il 7 maggio 1897 per l'omicidio di decine di uomini e donne che aveva attirato nel suo castello gente sveglia che cominciava a capire molto della vera realtà delle cose proprio come lei signorina johansson lo rimandarono indietro dall'inferno per continuare il suo lavoro ma avevano bisogno di qualcuno più preparato e cosciente dei tempi che corrono qualcuno con le conoscenze giuste a dentro al sistema capisce volevano me alla fine la promozione l'ho proprio ottenuta si rilassi signorina ci metteremo settimane a toglierle ogni strana idea dalla testa strato di pelle dopo strato di pelle e loro diverranno più forti grazie a questo e lei sarà solo l'ennesima chiave per aprire una porta sull'inferno e sul vero marcio sciaguattante volto della verità bentornati e bentornati nel podcast di cui bravi nerdazzi io sono moidart gm e questo è il secondo episodio della serie fra le righe degli antichi tomi dedicato a cult divinità perduta provate a fare una ricerca su harry howard holmes a chicago anne gilwood è una storia piuttosto interessante prima di cominciare vi chiederei di sostenere questo podcast cliccando su segui o la campanella sulla vostra piattaforma podcast ad ascolto di lasciare qualche stellina o una valutazione aiuta tantissimo il podcast vi invito anche a iscrivervi alle pagine instagram e facebook per rimanere aggiornati aggiornate sulle uscite e sugli avvisi già che ci siete fate anche un salto sul canale youtube dove oltre a tutti gli episodi del podcast troverete anche le campagne che abbiamo giocato finora a diversi gdr live su twitch abbiamo un canale anche twitch anche se al momento non viene utilizzato basta davvero poco per aiutarmi a crescere grazie mille come stavamo dicendo in questo episodio riprendiamo la strada scoscesa angosciante spaventosa del mondo anzi nei mondi di cult divinity lost ultima incarnazione di uno dei gdr più famigerati e inquietanti mai stampati e se nel primo episodio abbiamo affrontato metropolis e gli arconti il mondo città devastato tomba dei cori angelici e forse di dio stesso in questo andremo nel mondo d'inferno premetto che quanto segue sarebbe meglio rimanesse dominio dei suoi narratori onde evitare che i giocatori e le giocatrici si rovinino la sorpresa e l'incubo di scoprire giocando la verità che si cela dietro elisio il nostro mondo in cult in cult divinità perduta si affronta un lento e traumatico risveglio dell'anima e della coscienza superiore attraverso traumi e rivelazioni sconcertanti per cui conoscere l'intera ambientazione non sarebbe proprio un'ottima idea per chi volesse cominciare una campagna cult giocatori avvisati mezzi salvati i temi saranno persino peggiori e più adulti e brutali dell'ultimo episodio se già il suicidio il razzismo l'abuso familiare la misoginia e le turbe psicosessuali erano nel primo che per così dire trattava nel paradiso in questo si parla di inferno quindi a voi la scelta bando alle chiacchiere e sigla in cult divinità perduta l'umanità è da tempo immemore prigioniera in elisio il mondo che a noi appare tanto familiare con le sue parentesi di quotidianità orrori lavoro soffocante famiglie disfunzionali relazioni dolori guerre angosce obblighi e passioni è una galera creata per ordine di un dio crudele e spaventato dalla potenziale grandezza della moltitudine di divinità costituita dall'umanità dei primordi una umanità che un tempo non avrebbe mai temuto il disgregamento portato dal tempo la malattia la scarsità i difetti fisici una umanità che condivideva le titaniche meraviglie di metropolis ai piedi del palazzo di dio e che con dio condivideva la grandezza il crudele splendore una stirpe di conquistatori di mondi re e dei cangianti e mutevoli con il potere del libero arbitrio e della terribile potenza creatrice una stirpe pericolosa se un giorno avesse deciso di imporsi o di unirsi una schiera il cui potere passionale l'intenso desiderio di vita costituiva un bacino di potere in grado di garantire il perdurare del dominio degli angeli e del demiurgo solo se soggiogata in un'illusione senza scampo e senza memoria in un ciclo di morte e reincarnazione senza fine al gioco delle catene dei principi primi degli arconti araldi del demiurgo e totalmente assorbiti dall'inconscio e spaventato desiderio di essere i primi fautori nel mantenere l'illusoria sicurezza di un'esistenza di limitazioni e obblighi sociali e autoindotti giusto come promemoria in cult divinity lost i giocatori interpretano personaggi come detective occultisti accademici agenti dell'fbi vagabondi arrampicatori sociali sfrenati artisti decadenti dannati criminali e tante altre classiche analizzeremo nell'episodio dedicato persone che si trovano ad affrontare i demoni laceranti e urlanti del proprio passato fatto di traumi subiti e inflitti passioni proibite peccati mostruosi sfruttamento e abuso inflitto e subito spesso saranno dei dormienti o parzialmente risvegliati ovvero avranno avuto nel corso delle loro esperienze la percezione che il mondo là fuori è più di quel che sembra avranno intravisto cose creature ed eventi che hanno lasciato su di loro un segno indelebile che non può non ossessionare le loro vite spingendoli sull'orlo dell'abisso della follia e dell'auto isolamento solo affondando le dita in quel vago sentimento di angoscia claustrofobica solo guardando negli occhi le mostruosità della vita fisicamente ed emotivamente saranno in grado prima o poi di scorgere i mondi oltre il velo dell'illusione e potranno solo sperare di sopravvivere alla vera verità molti mondi si intrecciano con quello creato dal demiurgo come prigione per l'umanità elisio metropolis inferno il reame dei sognatori di limbo il folle mondo della vita bestiale delle forze incontrollabili della natura gaia e i dedali tenebrosi e spaventosi del sottomondo elisio è traforato da anfratti squarci e portali verso questi mondi tremendi ma più reali del nostro abitati da intere schiere di creature fameliche tiranniche e oscene oltre ogni immaginazione solo rischiando di venire fatti letteralmente a pezzi dalle zanne della verità i personaggi potranno svegliarsi dall'illusione e tornare ad essere dei senza tempo e limiti quando il demiurgo generò gli arconti signori dei terribili e maestosi cori angelici essi proiettarono un'ombra in un altro mondo antico e terribile che si generò come specchio distorto e osceno dei concetti materiali filosofici e ideologici del mondo in inferno nacquero gli angeli della morte ciascuno ombra e proiezione contraria di ogni arconte ma persino il demiurgo stesso proiettò un'ombra potente e vasta oltre ogni immaginazione astaroth signore e dominatore dell'inferno egli covò fin da subito l'ardente desiderio di soggiocare l'umanità alla stessa stregua del demiurgo ricordiamoci che calta affonda i propri pilastri narrativi nell'ognosticismo e nelle tradizioni simboliche numeriche ed esoteriche della cabbala ebraica come gli arconti demiurgici i sefira anche gli angeli della morte claifot tesero le catene dei propri principi primi per avviluppare e sostenere l'illusione di elisio al fine di creare dei condotti lungo cui le anime dell'umanità potessero fluire in inferno le pulsioni di questi principi primi influenzavano l'umanità esattamente come quelli degli arconti di metropolis e avevano anch'essi lo scopo di indurre pulsioni desideri e brame nell'anima dei carcerati di elisio noi gli umani essi si avessero ceduto in vita a tali pulsioni sarebbero discesi lungo le catene dei principi primi dell'angelo della morte che le aveva emanate giungendo infine nel suo nero palazzo in inferno per nutrire con le essenze con le memorie della vita passata lo stesso angelo e il dominio di astadot stesso ogni volta avvicinando un po di più il contatto fra il mondo di inferno e quello di elisio mentre gli arconti di metropolis detengono i principi primi soffocanti e tirannici che sostengono la struttura conscia e inconscia dell'umanità compresi i lati più tirannici ipocriti soffocanti asfissianti come comunità legge desiderio onore sottomissione conformità e gerarchia gli angeli della morte tendono le catene dell'emarginazione della lussuria della paura del dolore e della discordia avviluppano l'umanità nella roma del proibito dell'estremo dell'iniquità e dell'egoismo devastando miliardi di vite e arrivando a generare veri e propri mostri piccola parentesi ovviamente se vi siete persi l'episodio 33 della seconda stagione dedicato a cult in cui il gioco viene introdotto in toto a grandi linee oltre a discendere poi nel dettaglio di metropolis e di arconti vi invito a recuperarlo per poter seguire al meglio i contenuti di questo che danno per scontato l'ascolto del suddetto episodio ma che cos'è inferno l'inferno è un luogo di terrore sofferenza e indicibile bellezza è un mondo di scale tortuose cavità spalancate camere di tortura sale maestose catacombe oscure negli infiniti labirinti dell'inferno il viaggiatore può imbattersi in tempeste che infuriano pellegrini devoti e panorami tanto grandiosi quanto terribili gli auguri ciechi sono piegati su tavoli autoptici di acciaio inossidabile mentre cercano disperatamente di trovare verità e vaticini nelle viscere ancora fumanti inchiodati a monumenti che fanno rabbrividire individui folli e in trance omaggiano cantando gli angeli della morte e il dolore qui astarote sui angeli della morte regnano incontrastati dalle loro enormi fortezze coloro che cercano risposti agli enigmi del tempo dello spazio possono trovare verità nascoste nelle alte torri dell'inferno nelle sue biblioteche abbandonate o prostrandosi dinnanzi ai suoi ingranaggi e macchinari alieni mentre meditano profondamente i nefariti spremono le loro meningi per trovare percorsi che conducono dall'elisio assaporando il nostro mondo maturo attirando gli incauti e cercando di passare inosservati i nostri luoghi di tortura le prigioni i campi di sterminio e gli ospedali psichiatrici confinano con l'inferno così come innuverevoli altri luoghi battezzati nel sangue nella sofferenza la casa di un serial killer le fosse comuni dopo innumerevoli esecuzioni e le zone di guerra un mondo così distante ma allo stesso tempo così terribilmente vicino così come in metropolis si ergano le mani fortezze degli arconti così in inferno sono sorte specularmente le fortezze degli angeli della morte suddistese martoriate di pietra nera cenere e polvere sotto un cielo plumbeo e cadaverico si accendono costellazioni di fuochi sparuti e stentori e alcuni immensi e ruggenti altri attorno ai fuochi si incancreniscono baraccopoli fatiscenti costruite con i frammenti delle costruzioni di migliaia di civiltà e regni caduti nel tempo e nello spazio scheletri di templi preistorici ospitano osservatori e altari in cui zeloti e pellegrini scarnificati e grondanti pus seme e sangue si immolano cercando nella tortura o nella preghiera il favore dei sovrani dell'inferno alcove putrescenti traboccano di figure barcollanti scheletriche o spaventosamente obese intrecciate in orge omicide cannibali ululando litanie bestiali ai signori della tentazione della depravazione paesaggi alieni e sublimi si stagliano attorno alle gigantesche fortezze alle vallate pietrose e traforate del palazzo di astaroth che torreggia sull'intero mondo di inferno templi osceni ospitano complessi rituali di automutilazione schiere di esseri sudati e dalle labbra spaccate versano i propri umori in urne cinerarie sacre auguri e divinatori spremono viscere in cerca di risposte per comprendere i segreti e le simbologie occulte che si celano dietro e dentro alla creazione chierici ammantati di pelli di infanti e trafitti da uncini bruciano le proprie estremità in braceri fiammeggianti in cerca dell'epifania che il dolore può portare fra gli strepiti e le urla dei torturati potenti e terribili nefariti incedono alla testa di cortei di flagellanti e penitenti consentendo loro di abbeverarsi dalle loro ferite sanguinanti affinché possano divenire dei prescelti con greghe si aggirano spettrali e rovine fatiscenti e semifuse con le pietre torturate con ciuffi di chiodi rugginosi infissi nella lingua e nel palato fedeli al voto di silenzio e pronti a recarsi in pellegrinaggio verso santuari di orrore e sofferenza in cerca di redenzione e della verità oltre le fortezze nere si estendano terre vuote primordiali e feroci costellate delle rovine di civiltà antiche precipitate e dimenticate oltre l'orlo della memoria e del tempo foreste avvizzite e contorte distese di complessi industriali rugginosi e tossici sono inframmezzati da paludi di liquami e scarti di fabbricazione carcasse di mezzi e macchine vi affiorano come scheletri di bestie giganti marcescenti mari sporchi e schiumanti si abbattono su coste spezzate coperte di immondizia di plastica carcasse potrescenti e relitti rugginosi nebbie tossiche infide aleggiano su un orizzonte di sfacelo post apocalittico aspetto della rovina di tutti i mondi i cieli al di là delle plumbe e nebbie e delle malate aurore crepitanti celano visioni di una bellezza immensa aliena e schiacciante stelle impazzite e nebulose selvagge costellazioni alla deriva si muovono assieme ai resti di lune e pianeti in disfacimento astronomi impazziti e mutilati scrutano i cieli di inferno in cerca di visioni e di comprensioni sfuggenti e impronunciabili dall'alto di colline di vetro e acciaio spezzato con l'ausilio di macchine incomprensibili e raffazzonate il tutto accompagnato da brontoli abissali e da cori di liturgie e lamenti campane distorte e sciofar profetici a lovecraft sarebbe piaciuto un sacco su questo caleidoscopio spezzato umido e sanguinante dominano le dieci gargantuesche fortezze degli angeli della morte al centro delle quali svetta come abbiamo detto alta come la più alta delle catene montuose quella di astaroth il signore di inferno e proiezione speculare opposta più o meno del demiurgo dire che egli è il diavolo è sia giusto che sbagliato tanto quanto affermare che il demiurgo è dio astaroth percepì la scomparsa del proprio aspetto di metropolis il demiurgo e si mettò persino nell'abisso lasciato dal crollo del palazzo di dio in metropolis ma nessuno sa cosa vi trovò ma quando tornò egli era spossato e sanguinante e mai rivelò se avesse trovato o meno il demiurgo né se egli fosse ancora vivo o meno le immense fortezze ospitano e sono esse stesse l'angelo della morte che dalle cavernose guglie sale e detiene la catena del principio primo tramite cui retisce e soggioga gli umani di elisio allo scopo di tormentarli e corromperli così da consumarne le forze e le energie dopo la morte e prima della loro reincarnazione come abbiamo detto laddove gli arconti detengono i principi primi che costituiscono l'ossatura della società e della civiltà umana come legge autorità comunità desiderio avidità onore eccetera e sempre in accezioni e declinazioni infide soverchianti e atte a schiacciare l'umanità in una prigione di obblighi effimeri e di angoscia indotte gli angeli della morte detengono le catene dei principi primi del tormento il tormento non è solo quello che collegheremo istintivamente al nostro immaginario di inferno dove i diavoli tormentano appunto i dannati il tormento ha moltissime sfaccettature e declinazioni ma tutte sono mirate ad ottundere la mente ad accecare a riempire di pensieri angosce e desideri convulsi le menti e le anime dell'umanità al fine di evitare il suo risveglio anche i lati peggiori dell'essere umano sono comunque costrizioni materiali e assai limitanti e superflue per un dio come si può pensare di osservare il mondo da una prospettiva distaccata avulsa dagli aspetti del quotidiano se moltitudini di catene mentali illusorie autoindotte percettive emotive istintive fameliche angoscianti inficiano sulla vita di ciascuno come una tempesta a tratti urlante a tratti bisbigliante umida vergognosa e interiorizzata in una prigione mentale personale come ci si può scagliare contro gli aspetti effimeri della vita se essi ci strangolano e ci guidano mascherandosi dal libero arbitrio e da sensazioni apparentemente scaturite da noi stessi obblighi morali desiderio di dominio invidia legami soffocanti con famiglie affetti disastrosi emotivi e cicatrici annesse ci segnano e ci affossano diventando essi stessi bersagli e la consunzione delle nostre energie mentali possono arrivare ad intaccare un individuo così profondamente da sconvolgerlo e abbrutirlo questo porterà a percepire il prossimo come un oggetto un bersaglio un elemento di invidia un ostacolo un dovere un obbligo o un insetto e a percepire noi stessi come un fallimento ricettacolo di irrealizzazione che cerca di riempire il vuoto interiore accumulando beni relazioni effimene e superficiali che a loro volta porteranno a frustrazione preconcetti obblighi e ciascuno di questi aspetti è governato intrecciato dai principi primi retti degli arconti e dagli agi della morte quando queste sensazioni arrivano all'eccesso materializzandosi in atti scelerati brutali e sanguinosi portandoci a covare un odio profondo xenofobo e insaziabile ecco che siamo preda del tormento dei signori di inferno quando gli obblighi morali sociali o religiosi ci portano a percepire la vita come un fardello un macigno senza sbocchi o sfoghi a cui piegarsi solamente ma continuiamo a persistere ecco che le catene degli arconti si tendono a soffocarci in altro modo strattonata dalle catene dei principi primi l'umanità è avviluppata nell'illusione da essi creata e ne è così assue fatta da spingersi a morire pur di non affrontare la paura che si cela nel gettare anche solo uno sguardo alla vera verità come i prigionieri della caverna di platone arriverà ad uccidere pur di rimanere nell'ovatta della falsa sicurezza di ciò che già conosce questi esseri potentissimi e spaventosi si contendono le nostre anime per trascinarle nelle segrete delle proprie fortezze e palazzi per torturarle spogliandole di ogni potere emotivo ricordo e sensazione è così che si nutrono e con tutto il loro potere sanno che qualora l'umanità dovesse trovare il modo di scuotersi via le catene diverrebbe una forza inarrestabile e probabilmente l'illusione di elisio non sarebbe l'unica cosa a crollare come nell'episodio precedente anche qui voglio avvertire che da questo momento in poi più di quanto abbiamo fatto finora scenderemo in dettagli di ambientazione che forse non sarebbe il caso di conoscere fino in fondo per un gruppo di giocatori e giocatrici aspiranti di cult potreste giocarvi dei plot giocarvi nel senso fregarvi dei plot davvero interessanti da scoprire strada facendo nelle sessioni io vi ho avvertito qualche secondo per rifletterci su molto bene allora avviamoci sui sentieri cicatriziali dell'inferno ci conviene prendere una bella boccata d'aria laggiù l'odore è quello delle cose che marciscono in fondo all'anima ciascuno degli angeli della morte è venerato in inferno e non solo da un clero di postulanti zeroti spiriti dannati e corpi spezzati e mughianti sacerdoti e predicatori riportano i voleri degli angeli della morte o cercano di scrutarne e comprendere il volere dai segni del cielo o nascosti nei corpi e nelle vibrazioni e tonalità delle urla di dolore o negli ansimi di piacere proibito e malato la maggior parte di essi sono i servi nefariti dei claifot o claifa al singolare il nome degli arconti oscuri nella cavala ebraica come abbiamo detto demoni mutilati angeli caduti impazziti sognatori e perduti popolano le schiere del clero degli angeli della morte ma anche i littori arcontici corrotti antichi dei dimenticati e divorati dalla bramosia e dalla follia superstiti di civiltà e mondi ormai ridotti in polvere hanno risposto alla chiamata dell'angelo della morte che l'irretì in tempi ormai dimenticati e privi di significato ora scenderemo ai piedi delle fortezze nere e dei signori che bisbigliano gemono e ululano al loro interno sarebbe stato molto interessante fra i due chiacchiere anche sul clero specifico di ciascuno ma andremo davvero troppo per le lunghe peccato taumiel colui che ha due teste il sovrano iniquo è l'ombra dell'arconte keter che incarna la gerarchia fa i principi primi degli arconti è l'angelo della morte che detiene la catena del principio primo del potere e del dispotismo spinge gli uomini e le donne deboli a dominare sul prossimo per dare importanza a se stessi per riempire la sensazione di nullità che arde in loro agisce tramite i dittatori e signori della guerra più spietati egli è l'incarnazione della legge del più forte dell'individualismo e del calpestare gli altri per elevare se stessi per interessi personali capitalismo sei tu le spietate ascese all'interno delle multinazionali politici senza scrupoli che sacrificherebbero chiunque per ottenere una posizione di dominio membri di società criminali violente e brutali broker senza anima di wall street tutti pronti a intraprendere il sentiero lastricato di cadaveri di taumiel in tutto questo forse non lo sentite ma fuori sta infuriando letteralmente una tempesta di fulmini tuoni un vento spaventoso ma sarà il caso io non credo chagidiel il corruttore il patriarca macchiato di sangue la parola vana la catena del principio primo di chagidiel è l'abuso è l'ombra dell'arconte chocma che incarna il principio primo della sottomissione al divino abuso fisico psicologico emotivo infantile e sempre rivolto verso i giovani e verso i più indifesi le loro menti e i loro corpi vengono spezzati fino a rendere la violenza e l'abrutimento cosa normale la vergogna il disprezzo verso se stessi l'odio la frustrazione divengono una costante litania che cheggia nelle menti e nelle anime di questi individui spezzati fino a che non resta altro che la sua costante presenza a saturare ogni anfratto del sentire e del vivere una catasta di fango in grado di soffocare ogni sensazione e aspirazione verso una vita ed un'esistenza diversa migliore e libera l'influenza di chagidiel sveglia impulsi osceni e proibiti negli adulti nei genitori spingendoli a sfogarli contro i figli propri o degli altri i suoi campioni adepti diffondono la pedopornografia oppure lasciano trapelare nei media mainstream messaggi subliminali in grado di stillare nelle menti di chiunque pensieri malsani e depravati satariel l'ulteriore le nove lune la madre divoratrice detiene la catena del principio primo dell'emerginazione ed è l'ombra dell'arconte bina la detentrice del principio di comunità satariel svuota le anime umane ferite riempiendole solo di un vuoto ancora più buio veterani di guerra distrutti vittime di bullismo porno star devastate dalle droghe eroinomani invisibili disadattati i servi di satariel accolgono gli emarginati offrendo loro la vendetta contro il mondo armando gli studenti pronti a scatenare un massacro a scuola o spingendoli all'omicidio suicidio e intanto reclutano nuovi esclusi fra tutti i rifiutati e i falliti promettendo loro di svelare i misteri che stanno al di là delle porte del sottoscala o in fondo alle scale che scendono nei vecchi condotti della metro gamicicot il falso benefattore l'agitatore e l'angelo della morte che detiene il principio primo della paura ed è l'ombra dell'arconte cesed detentore del principio primo della sicurezza gamicicot diffonde l'odio per i cambiamenti per ciò che è diverso e per coloro che sono diversi i suoi bisbigli suggeriscono ai politici xenofobi le giuste arringhe per iniettare paura e allarmismo nella società suggeriscono ai media di saturare le menti degli spettatori con un caledoscopio di notizie in grado di saturare la percezione e la capacità di giudizio di chiunque la parola d'ordine di gamicicot è paura e insicurezza per il cibo che mangiamo per i governi al potere per i complotti bancari e sionisti per il clima per la guerra per la sostituzione etnica per una crisi economica la paura distrae e acceca assorda e mutila il buonsenso e la capacità di giudizio trasformando il diverso e le minoranze in capri spiatori pronti ad essere immolati per il bene dello sfogo rassicurante di tutti fino a dare vita ai movimenti antiabortisti alle linee più conservatrice nella politica alle milizie irregolari nate per proteggere l'identità razziale golab colui che arde il torturatore le urla dall'abisso golab è l'angelo della morte che detiene la catena del principio primo della sofferenza e del tormento è l'ombra dell'arconte gebura e della sua catena la legge il dolore cronico inflitto perpetuamente rende una mente incapace di percepire altro se non dolore sadomasochisti estremi individui che si eccitano guardando stimolando il dolore altrui assassini violenti e brutali torturatori da animali e persone chiunque voglia punire tagliare strappare segare vivisezionare anche solo pensando troppo intensamente ad uno di questi aspetti si potrebbe attirare un servitore di golab ospedali psichiatrici caserme dell'esercito della polizia carceri e covi di terroristi pulsano dell'influenza di golab camere di tortura nascoste negli scantinati vecchi complessi produttivi dove è possibile utilizzare elettricità o scarti chimici industriali per prolungare e infliggere dolore alle vittime in questi luoghi da incubo mentre le telecamere riprendono il prossimo video da caricare nel deep web si ansima e si suda golab togarini il sole nero il vortice di oscurità protettore dei maghi della morte è l'angelo della morte che detiene la catena del principio primo della compulsione ombra dell'arconte tifaret detentrice del principio dell'attrazione togarini attrae e ispira artisti estremi folli malati mentali musicisti li spinge a dare forma all'arte dell'assurdo della follia in grado di squarciare l'illusione di esilisio per poi godere nel vederli spezzarsi davanti alla verità spinge più audaci e creativi a creare porte fatte di cadaveri o pezzi di cadaveri puzzle mortali in grado di aprire reali porte verso l'inferno suggerisce la composizione di melodie in grado di risvegliare la divinità umana un raro caso come l'arconte malcut di intento diretto al risveglio di alcuni individui ma con fini diversi da quelli dell'arconte ribelle malcut togarini soggiuga coloro che si abbandonano alle sue visioni e alla sua verità legandoli a sé anche dopo la morte togarini non è partecipe delle lotte fra arconti angeli della morte sceglie con cura pochi fra la formicolante umanità solo coloro che covano il seme della follia seme che è pronto per essere innaffiato dai sussurri isterici e devianti di togarini una visione come un'illusione personale in grado di nascondere i limiti di quella di elisio hareb seraph il padre della carnificina il mare degli incubi il corvo della disperazione è l'angelo della morte che detiene la catena del principio primo del conflitto nemico e ombra dell'arconte nezzach del principio primo della vittoria ovunque la guerra sia particolarmente sporca l'odio durante un massacro di civili più feroce e brutale ovunque i bambini soldato abusino e trucidino le madri e i padri di altri bambini soldato ovunque le bombe colpiscano civili indifesi o laddove maceti e mitragliatori vomitano morte durante i pogrom e i massacri etnici ogni volta che si inneggia la guerra santa ecco lì si respira il fiato fetido dell'influenza di hareb seraph laddove l'arconte nezzach cerca conquista e vittoria hareb seraph cerca solo il conflitto fine a se stesso dove la sua presenza è più forte ogni discussione diventa motivo di morte e poi di faida una manifestazione pacifica può trasformarsi in una devastante escalation di auto in fiamme abusi omicidi e rapine i suoi templi sono gli stadi calcistici e i centri di reclutamento nelle aree più sanguinarie di africa e medio oriente samael il califfo dalle mille lacrime il veleno del signore il vendicatore e gli detiene la catena del principio primo della vendetta in opposizione a ciò che resta del principio primo dell'arconte hod l'onore non esiste offesa troppo lieve o parola trascurabile che non si meriti la vendetta che non spinga gli individui a tremare al solo pensiero a imbeversi d'odio per coloro che li hanno denigrati offesi traditi usati o beffeggiati samael nutre i raptus che portano agli omicidi passionali a colpire decine di volte col coltello il corpo di colui o colei che ci ha traditi ma la vendetta a molti volti anche più gelidi e calcolatori come quelli volti a distruggere la vita di una persona lentamente ma con metodicità magari ottenendo e poi pubblicando foto e confidenze sui social media i servitori di samael non dimenticano mai e la loro vendetta è sicura rabbia frustrazione e senso di impotenza spingono i singoli piccoli gruppi a covare il desiderio di vendicarsi nei confronti del mondo la follia diventa saggezza e la morte diventa motivazione mafie gang e organizzazioni terroristiche singoli ed insospettabili individui possono essere influenzati dai servitori di samael gamaliel padre degli abomini lo sceno il perverso egli detiene il principio primo della lussuria in opposizione all'avidità del principio dell'arconte jesod quando il desiderio e la fantasia più sordida e depravata troviano uno sfogo allora lì si può percepire l'influsso di gamaliel stupri di gruppo siti pornografici estremi depravati e dai contenuti inconfessabili dark web dove il traffico di esseri umani è una realtà gemente e lacrimante la produzione di snuff movie gamaliel è ovunque si cerchi di reprimere un desiderio inconfessabile e proibito dalla società e quando vi cediamo allora stiamo nutriendo gamaliel egli è con noi mentre eliminiamo ricerche scomode imbarazzanti dalla cronologia i suoi domini dominano la rete internet su molti livelli mentre negli scantinati degli strip club più malfamati dove vecchi materassi umidi e sudici ancora puzzano di sangue di lacrime e degli umori delle vittime massacrate per girare uno snuff ecco lì da qualche parte ci potrebbe essere uno squarcio una porta verso la fortezza nera di gamaliel all'inferno i suoi servi sono stupratori seriali manager e produttori pornografici o i creatori di contenuti via webcam e siti dedicati nahemoth l'ombra della terra la donna della notte lilith ella detiene la catena del principio primo della discordia e si oppone al potente arconte malcutta e al suo principio di conformità ella è il caos delle forze naturali è la paura atabica verso ciò che non sia in grado di controllare il suo potere era grande nei tempi in cui l'umanità popolava una prigione primordiale e arretrata in cui si temeva ancora la notte e ciò che poteva celare ma dopo un lento declino il suo potere si fa più forte oggi mentre la paura dell'ira delle forze naturali si fa più forte e concreta per le masse di elisio laddove il terrore degli tsunami è più forte nelle aree limitrofi ad una regione spopolata a causa delle radiazioni nelle aree dove sversamenti tossici rendono le acque velenose imbevibili lì aleggia la sua influenza i suoi adoratori e servitori affogano le madri colte dalle doglie in bidoni di rifiuti tossici e fanghi chimici lasciando che i loro cadaveri partoriscano mostri deformi e abominevoli durante rituali spaventosi è una profonda conoscitrice delle meccaniche che gestiscono e governano l'illusione di elisio e in certi luoghi selvaggi è adorata come divinità della notte sensuale e terribile in certe zone in cui gli aspetti più selvaggi e tetri della natura sono ancora adorati vengono consumati rituali antichi e spaventosi magari con l'aiuto di qualche antico nefarita o dei terribili razzidi che vedremo dopo rituali in grado di creare veri e propri mostri e creature da incubo spesso legate al folklore locale ed è nelle fortezze nere di questi angeli della morte che finiscono le anime di coloro che in vita si sono lasciati imbevere dei principi primi di questi signori infernali esattamente come accade in metropolis per le anime che risalgono le tremende catene degli arconti in queste fortezze mastodontiche il principio primo dell'angelo della morte che le domina caratterizza l'aspetto di infiniti dedali di tunnel sale vastissime o claustrofobiche scalinate galere pozzi camere di tortura cappelle sacrileghe e corridoi pieni di statue spezzate gementi e sanguinanti tubi spezzati perdono continuamente di quami innominabili piante rampicanti spinate metalliche velenose e funghi suppuranti incrostano le facciate immense e i budelli interni elevatori meccanici sferraiano scendendo e risalendo lungo pozzi fetidi verso anfiteatri da incubo cripte e ossari camere di macerazione per cadaveri forni e fornaci è qui che le anime vengono torturate all'inverosimile dopo aver riacquistato un corpo materiale torturate abusate stuprate vivi sezionate più e più volte su altari e su pali di ferro i bambini vengono scuoiati da nefariti e demoni impazziti e morbosi i fratelli sono costritti a scuoiare le sorelle per poi subirne la folle vendetta indotta fra le risate o i cantici e le liturgie dei torturatori nefariti trapani seghe circolari catene dentate colonne sfrigolanti elettricità si intonano con le urle e con i lamenti delle masse innumerevoli imprigionate nelle fortezze nere le speranze i ricordi dei torturati riempiono i corridoi e le sale di illusioni impalpabili mentre le ultime lacrime di speranza e amore vengono raccolte in vasi con reverenza e appetito orde di insetti e parassiti mangiano vivi i bambini mentre i loro cari vengono trascinati in dedali claustrofobici di pietra bollente individui bestiali vivono in cunicoli sotterranei claustrofobici che ricordano delle fogne talvolta riescono a farsi strada nel nostro mondo strisciando e sbavando tra catene e uncini demoni anime perdute trovano conforto nei desideri sessuali più proibiti con il loro seme le loro secrezioni vaginali che si riempiono di sangue e bile gli innocenti vengono costretti a ingurgitare urine feci e vomito di altri innocenti all'interno di maleodoranti cloache i corpi urlano tremano singhiozzano e implorano pietà anche quando dovrebbero essere ormai morti da tempo qui però non trovano né pace né tregua poiché i chirurghi dell'inferno li ricuciano in modo che le loro torture possono ricominciare ancora e ancora l'esistenza è un'odissea di crudeltà avvolgenti e senza pari i desideri collettivi le tendenze sadiche dell'umanità sono stati condensati in esperimenti infernali in quelle anime vengono castigate mutilate e lacerate incessantemente fino a quando la loro identità non viene annientata del tutto talvolta i servitori degli arconti rapiti o quelli sfortunati vengono condotti all'inferno e sottoposti alle sofferenze più crudeli gli angeli vengono violentati su altari di basalto mentre i littori vengono fatti a pezzi un po alla volta impedendo loro di riuscire a morire solo sottomettendosi completamente ad astaroth bevendo il sangue oscuro del dio dalle vene delle sue incarnazioni e dedicandosi alla tortura possono sperare di continuare a esistere come i suoi fedeli servitori quando infine le anime saranno state portate alla totale apatia e svuotate di ogni sensazione simile a gusci totalmente vuoti saranno rilasciate per tornare a reincarnarsi in elisio per un nuovo ciclo vitale e tutto ciò che viene loro sottratto va a nutrire gli angeli della morte e il loro signore astaroth credetemi ascoltatori e ascoltatrici se vi dico che sto edulcorando e saltando parecchi altri contenuti molto estremi ora non è che io stia proprio gongolando nel leggervi tutto questo però nel suo insieme è molto affascinante e a suo modo coraggioso altri contenuti invece sarebbero troppo lunghi da spiegare come i purgatori ma tocchiamoli un attimo piano i purgatori sono un tipo particolare di maledizione d'inferno diversi per ogni individuo queste prigioni sono create dai nostri ricordi dai sogni dalle fantasie dai pensieri il tutto in un brodo tossico il cui ingrediente principale è il senso di vergogna e di colpa una volta lì siamo costretti a confrontarci con ciò che temiamo e desideriamo di più e ne fariti sono in grado di leggere i nostri desideri motivazioni e paure per creare una prigione adatta a noi ma inconsciamente siamo noi a permetter loro di incatenarci nei rispettivi purgatori i peccatori rivivono continuamente la loro vita da incubo intrappolati immondionirici fatti dei luoghi del loro passato o delle loro paure più terribili un attentatore suicida è costretto a farsi esplodere mille volte ripetutamente ma non può mai morire la sua carne frammentata è viva e urla mentre si ricompone dolorosamente si rende conto che quelli uccisi sull'autobus che ha bombardato sono i suoi stessi familiari che devono unirsi a lui nella sua sofferenza e pieni di odio nei suoi confronti la madre che ha negato il proprio figlio è così piena di sensi di colpa che è per sempre costretta a vagare per il fondale marino viscido alla ricerca del figlioletto mentre le anguille depongono uova nella sua pancia e i pesci le divorano gli occhi il sole che brilla sulla superficie dell'acqua e la speranza del perdono rimangono per sempre al di là della sua portata i purgatori a differenza delle più ampie camere di torture infernali spesso soggiacciono molto vicini al mondo di elisio magari tangenti ai luoghi che questi poveri sfortunati hanno vissuto e in cui si sono verificati i peccati in cui sono stati compiuti quegli atti osceni per cui ora vengono torturati nel loro purgatorio personale quindi lo scopo dei signori di inferno è quello di accaparrarsi sempre più anime tentare tormentare gli umani in elisio spandendo la propria influenza tramite le catene del principio primo che detengono e lo fanno come gli arconti inviando i terribili servi nefariti in elisio avete presente i cenobiti di elrazer no andateli a cercare quando avete tempo giusto per farsi un'idea ma per i nefariti è molto più difficile entrare nel nostro mondo illusorio elisio rispetto invece ai littori arcontici i nefariti possono ispirare atti osceni ed estremi da far compiere agli umani già caduti vittime dell'influenza dei principi degli angeli della morte atti o rituali così tremendi da aprire una porta uno squarcio in grado di mettere in collegamento elisio e inferno talvolta come nel caso del nostro intro all'episodio per esempio anche le anime di assassini particolarmente depravati creativi o estremi possono essere rimandati indietro a finire il lavoro o ad insegnarlo ad altri lo scopo dei nefariti è quello di servire ed accrescere il principio del proprio signore infernale i personaggi di una campagna potrebbero quindi indagare su strani omicidi sparizioni fenomeni estremi situazioni che li coinvolgono in un particolare contesto preda del principio primo di un angelo della morte come la moda la pornografia o potrebbero indagare sulla morte di personalità all'interno di circoli religiosi paramilitari ma di come utilizzare gli elementi di cult per creare e giocare una campagna ne parleremo in un episodio dedicato futuro l'inferno di cult è molto più di quello che abbiamo solo accennato in questo episodio in cui forse ho ceduto nel raccontare magari le parti più familiari splatter e spettacolari in realtà inferno è molto più viscerale e vicino a noi molto più di quanto osiamo sperare nei gesti sconsiderati quotidiani nelle emozioni violente e frustrate sul luogo di lavoro o davanti ad abusi burocratici genitoriali e sociali oltre nei fariti alle anime penitenti ci sono altri abitanti in inferno angeli caduti da metropolis e corrotti purgati di legionari dannati giunti all'inferno dalle battaglie di tutte le epoche i lamentosi pellegrini della sofferenza e dai razzidi mostruose macchine infernali in cui i corpi spezzati di spiriti torturati e ridotti a bestie sbavanti vengono incastonati per creare una macchina di distruzione difficilmente controllabile e da inviare in elisio per combattere contro i servi di clifoth avversari o contro i guerrieri e i servi degli arconti oggetti perduti reliquie strani individui spettrali e persino strani video musicali contenuti su vhs ora su pennina possono divenire canale per l'inferno e per il suo tormento mi spiace se l'episodio è bello lungo ma credetemi anche in questo ho tagliato e semplificato forse anche troppo ora qualcuno si potrebbe chiedere io lo farei ma se tutto questo i giocatori comunque non lo sanno lo sapranno solo in minima parte ma cosa mi serve a prendere ispirazione per una trama di campagna niente di più ma niente di meno se sommiamo i contenuti del mondo inferno con quelli di metropolis che abbiamo finora affrontato abbiamo già due incredibili ambientazioni che collidono si sfiorano in qualche modo penetrano il nostro mondo decadente elisio dove l'umanità è ancora imprigionata e su quegli sparuti contatti e manifestazioni che gira il gioco magari anche volto poi a dare un'occhiata più approfondita alla struttura dei mondi sui significati reconditi dell'intera storia e ci mancano ancora i mondi di limbo gaia e il mondo sotterraneo spero di riuscire a riassumerli in un unico episodio perché stiamo andando veramente lunghi solo quando avremo un'idea più chiara dei mondi e dell'ambientazione parleremo di personaggi e campagna cult anche se sarà una faticaccia incredibile riassumere cercando di non mortificare questo gioco tanto tremendo quanto incredibile direi che siamo andati decisamente oltre i tempi umani e quindi un saluto da claudio moidart gm e che i signori infernali possono assolutamente non vegliare sui vostri tiri di dado a meno che non vogliate dar loro qualcosa in cambio alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.